in questo abitacolo regna il silenzio perché virtualmente siamo arrivati alla fine della nostra esperienza io con voi all'interno della nuova skoda eniac iv stiamo parlando del primo suv 100% elettrico della casa cieca è arrivato il momento dopo averla testata nel full relax di questa esperienza di guida grazie agli amici di skoda amicar bari dopo averla appunto testata scopriamo nella tecnologia di bordo al tramonto quindi in tranquillità perché ce n'è davvero tanta quindi sedetevi comodi e godiamoci insieme un'ulteriore esperienza a bordo della nuova skoda eniac prima di scoprire questo gigantesco display touch andiamo un po a vedere cosa avviene davanti ai nostri occhi in primis io qui dietro c'è lo start button non devo neanche premerlo perché mi basta andare un po guardate un po a premere sul freno la vettura si accende da sola rileva che voglio partire mi basterà selezionare la marcia qui in basso qui lasciate perdere c'è il mio telefono e la mia mascherina in basso tra l'altro una piattaforma per la ricarica wireless dello smartphone e due usb c ma scopriamo cosa avviene qui davanti perché in fondo non so se si vede c'è il led up display ma qui c'è un piccolo schermo molto semplice come sulla volkswagen id4 che ci dà accesso alle informazioni basilari quindi abbiamo l'orario il cruise quindi in generale gli adas attivi o disattivati ma anche la velocità la lettura dei cartelli stradali ma anche le spie per la cintura quanta batteria ci rimane e l'autonomia e anche altre informazioni come la spia del e-brake la temperatura esterna e ovviamente al centro il tachimetro possiamo modificare le viste con i pulsanti sul volante abbiamo l'accesso alla piena disponibilità degli adas ma anche all'inserimento del travel assist quindi con il cruise control adattivo possiamo andare a visualizzare altre finestre quindi una finestra più larga per gli adas una più larga per la visualizzazione centrale del trip e invece da questo lato il controllo dei media con il volume con questo rotore e anche il controllo vocale e il riscaldamento del volante qui in basso prima di procedere col display touch abbiamo invece l'accesso ai vari settaggi della vettura alle modalità di guida al parcheggio assistito hazard bloccaggio porte accesso alla finestra del clima sbrinamento al massimo e sbrinamento anche del lunotto ma scopriamo insieme come funziona questo display perdonatemi se sentite un fruscio di sottofondo ma quest'auto essendo elettrica può tranquillamente rimanere semi accesa o semi spenta con l'aria condizionata attiva infatti l'ho attivata dopo vi farò vedere la finestra specifica purtroppo controllabile quasi esclusivamente da questo enorme tablet sospesso al centro della plancia con anche un sensore di prossimità di cui a breve vi mostrerò il funzionamento 13 pollici di diagonale con un layout abbastanza semplice ed intuitivo un funzionamento molto fluido molto rapido guardate un po' avvicino la mia mano e si attiva il tasto su cui potrei premere che sia menu o che sia home qui in basso uno slider come visto su altre vetture molto moderne del gruppo volkswagen con il pulsante per spegnere e riaccendere il volume o anche uno slider che funziona in qualunque punto quindi per andare su e giù con il volume o anche col meno e con il più da questo lato il layout è molto semplice in alto abbiamo la via in base al gps su cui ci troviamo le bande della nostra connessione ad internet di questa vettura perché è una vettura connessa che può anche fare da hotspot inoltre abbiamo l'orario il centro notifiche che è come quello di un telefono perché ci mostra le notifiche da un lato per eliminarle ma anche l'accesso rapido all'attivazione del ricircolo alla navigazione verso casa alle impostazioni del suono all'attivazione del bluetooth o dell'hotspot più con il più altre funzionalità con questo slider possiamo andare ad abbassare la luminosità dello schermo inoltre abbiamo il numero delle notifiche arrivate in questo caso 0 la velocità dell'evento del clima e la temperatura esterna in basso invece abbiamo un accesso rapido al clima purtroppo solo touch con il più e il meno per controllare la temperatura della zona dedicata al guidatore e poi di quella dedicata al passeggero che di base adesso eco perché non c'è nessuno seduto pulsante home pulsante per il ricircolo pulsante per i preferiti della radio della musica pulsante per l'avvio del menu nella parte principale abbiamo tre widget anzi quattro per i due terzi più o meno abbiamo il navigatore per il primo terzo abbiamo invece il radio in questo caso l'accesso al veicolo e le sue impostazioni il telefono seconda pagina abbiamo connettività del telefono il trip con le informazioni anche di lungo periodo della ricarica oltre che dalla partenza e anche impostazioni radio e media e i manuali torniamo sulla home andando a controllare un po dai pulsanti in basso che vi ho mostrato poc'anzi iniziamo proprio dal clima che è quello più diretto praticamente ci dà accesso al clima intelligente quindi con delle frasi in tal caso se vedete delle ditate sono le mie mani purtroppo è uno schermo totalmente touch quindi ho lasciato le mie impronte digitali comunque abbiamo dei pulsanti rapidi in primis per spegnere o per riaccendere il clima per sincronizzare le due aree abbiamo anche un pulsante per la visuale libera quindi per lo sbrinamento veloce scalda i piedi ci manda direttamente all'area calda i piedi scalda le mani dà accesso appunto al riscaldamento del volante raffredda i piedi è molto intuitivo aria fresca o raffreddamento rapido dell'abitacolo sui abbiamo le informazioni che cos'è la climatizzazione intelligente tutto ciò che vi ho spiegato adesso inoltre c'è la climatizzazione classica quindi con il pulsante per la regolazione automatica che può essere delicata media o intensa ma noi non la vogliamo automatica la vogliamo manuale come diciamo noi attualmente la sincronizzazione lo spegnimento del riscaldamento del volante su tre livelli la direzionalità delle bocchette anzi dell'area da quali bocchette esce compreso lo sbrinamento l'area condizionata attiva o meno ed il ricircolo inoltre air care ci mostra un po vediamo un po attivandolo che cos'è attiva la funzione per eliminare polveri sottili e poli nell'abitacolo utilissimo quindi un filtro praticamente per l'abitacolo veramente molto utile gli altri pulsanti li vedremo a breve con la procedura specifica senza andare nello specifico a saltare già ai settaggi le modalità di guida e all'assistenza al parcheggio iniziamo nella home page anzi dal menu perché questi sono dei semplici widget dal menu appunto due pagine telefono ci dà accesso alla connettività ma non lo vedremo in questo video lo vedremo nel prossimo per un tutorial più veloce radio e media che dà accesso alla radio dub fm o alla web radio inoltre abbiamo la lista completa delle stazioni disponibili torniamo indietro fm dub o web radio ci dà le liste complete qui abbiamo i preferiti pochissime radio messe abbiamo possiamo anche cancellarli o modificare questa lista e anche i media se abbiamo per esempio i miei media o tramite bluetooth una lista di canzoni da ascoltare mettiamo in muto torniamo anzi qui abbiamo il setup in setup abbiamo le impostazioni della radio quindi per cambiare le stazioni su tutte le emittenti ho solo tre preferiti attivare i notiziari sul traffico i comunicati dub supplementari il testo della radio per i loghi delle emittenti abbiamo appunto i loghi di tutte le stazioni per gestirli la selezione automatica del logo dell'emittente la regione per logo dell'emittente per esempio italia o in automatico in base a dove ci troviamo la visualizzazione degli emittenti per fm dub solo per fm passa ad emittente simile se la ricezione è debole e la qualità audio che può essere alta o bassa torniamo indietro in media invece le impostazioni sono riguardanti i dispositivi bluetooth che vedremo nel prossimo video le impostazioni del wifi di questa vettura per avere l'infotainment come hotspot per un telefono per attivarlo e anche attivare i notiziari sul traffico tornando a menu navigazione in navigazione possiamo andare a ricercare una destinazione con un tastierino vedete amica il concessionario che ci ha dato non donato questa vettura possiamo anche cercare la destinazione per paese località via numero civico incrocio anche le coordinate per latitudine e longitudine torniamo indietro queste sono quelle fisse se vogliamo le più recenti nel raggio appunto di una tempistica per esempio di 12 minuti 21 minuti un sistema nuovo quello del gruppo volkswagen le proposte appunto più recenti inoltre abbiamo le ultime destinazioni raggiunte e anche le destinazioni preferite casa o lavoro mappa c'è di accesso alla cartografia stessa con una funzionalità pinch to zoom molto rapida e fluida da utilizzare l'orientamento della mappa innanzitutto ricentriamo e appunto andiamo ad orientare la mappa in una visuale zenitale con l'or fissato con la direzione della vettura fissata verso l'alto oppure una visuale a volo luccello quindi diciamo in 3d con anche la lettura dei cartelli stradali in basso abbiamo la scala della visualizzazione di questa mappa e anche possiamo un po andare a aumentare e diminuire il volume delle istruzioni della navigazione mettere la visuale in auto adesso è notturna questa è notturna o anche in giorno che è la più chiara di tutte l'autonomia ci mostra appunto con l'autonomia attuale della vettura fin dove possiamo arrivare guardato un po ci mostra ipoteticamente potremmo arrivare fino a trieste secondo queste strade o fino ai balcani insomma oltre l'adriatico ma torniamo a ricentrare la vettura andando a swipare verso la sinistra non abbiamo dati disponibili perché non siamo su una strada evidentemente calcolata siamo in un parcheggio però ci mostra il nostro itinerario contatti infine ad accesso alla lista dei contatti con le loro destinazioni anzi con la loro localizzazione tipo casa di un amico o comunque di una azienda che vogliamo raggiungere impostazioni della navigazione con le opzioni dell'itinerario per raggiungere autonomamente le soste per la ricarica dato che è pur sempre un'auto elettrica o anche per evitare autostrade strada pagamento traghetti con restrizioni temporali o stagionali evita strade con bollino obbligatorio eccetto per determinate nazioni torniamo indietro evita problemi di viabilità possiamo chiedere sempre metterlo su off o su on avviso dell'autonomia rimanente informazioni sul paese al valico di frontiera targhe di avvertimento su strade di grande comunicazione e anche la segnaletica stradale avvertimento per una velocità eccessiva un avvertimento a oltre top chilometri orari torniamo indietro istruzioni nel navigatore attive innanzitutto possono essere stese abbreviato solo suoni durante la telefonata sono su on il volume l'abbassamento del volume dell'infotermia durante le istruzioni infine le istruzioni di base l'impostazione di base quindi apprendi il comportamento dell'utilizzo eliminalo stabilisci categorie preferite dei punti di interesse base a stazione di ricarica e quant'altro sono veramente infinite e anche la modalità demo tornando sul menu andiamo agli assistenti quindi gli adas possiamo avere una visuale in 3d o anche un elenco sono la stessa cosa abbiamo innanzitutto il lane assist quindi l'assistente al mantenimento di corsia quindi nelle linee della carreggiata può essere attivo e può essere attivata una vibrazione del volante inoltre abbiamo l'attivazione del cruise control adattivo con l'ultima distanza selezionata dal satellite sinistro dietro il volante una distanza in questo caso media o anche molto piccola piccola grande o molto grande teniamo l'ultima attivata possiamo attivare una previsione del percorso anche la previsione della velocità consentita quindi l'auto legge un cartello stradale e abbassa automaticamente la velocità in base a quella segnaletica stradale inoltre abbiamo la lettura dei cartelli stradali con l'avvertimento della velocità eccedente diciamo attualmente in off ma attivabile con un avvertimento abbiamo anche il front assist quindi il sistema di monitoraggio della distanza che è attivo quindi abbiamo un avvertimento in base alla distanza da chi ci precede quindi un pericolo di collisione insomma con una frenata d'emergenza anche in curva oppure un intervento correttivo sullo sterzo per una manovra di schivamento proprio dell'ostacolo utilissima abbiamo inoltre il rilevamento della stanchezza del conducente basato su dei segnali universali o anche la durata del viaggio l'orario e infine il side assist quindi l'assistente al cambio corsia in base anche all'angolo cieco possiamo anche avere una spia più o meno intensa su all'interno della calotta degli specchietti abbiamo anche l'elenco con gli stessi adas praticamente con anche l'eco assist con l'assistenza per la guida ecologica ci dà dei consigli se vogliamo l'emergency assist quindi con l'SOS anche il limitatore di velocità torniamo sul menu andiamo a luci soffuse quindi le luci ambientali che vanno per mood o anche personalizzate possiamo scegliere scoda inverno estate oceano race quindi rossa la luminosità è al massimo personalizzata e ora lo vedremo automatico o anche disattiva noi però la vogliamo attivare la mettiamo per esempio su race personalizzata ci dà accesso alle colorazioni che noi vogliamo per il colore 1 quello alto e per il colore 2 quello diciamo intermedio qui abbiamo anche la luminosità la luminosità dei led per i pannelli porta per quanto riguarda la plancia per quanto riguarda la fascia bassa della plancia e anche la zona dei piedi veramente molto molto scenografico soprattutto in notturna impostazioni delle luci soffuse andiamo un po in primis attiviamole la luminosità è al massimo possiamo avere degli effetti di luce ovviamente in modalità notturna e anche delle impostazioni specifiche per quanto riguarda proprio le luci soffuse torniamo sul menu abbiamo accesso ai manuali quindi manuali relativamente al sistema ai comandi vocali al veicolo ovviamente deve aggiornare ma sappiate che in questa finestra anche divisi per categoria troviamo il manuale utente di questa vettura smart link per andare un po a collegare in maniera efficiente smart il proprio dispositivo che può essere mirror link o può essere anche tramite android auto apple carplay veicolo lato sinistro abbiamo una colonna con le shortcut abbiamo le informazioni sulla ricarica attualmente abbiamo l'83 per cento del pacco batterie con un'autonomia di 362 chilometri possiamo ridurre la corrente ricarica alternata corrente alternata lo sblocco automatico del cavo se stiamo caricando luoghi di ricarica quindi aggiungi posizione attuale come luogo di ricarica se per esempio abbiamo trovato una bella colonnina dove ci siamo trovati bene per una bella sosta magari panoramica o su un luogo che vorremmo frequentare di più come un ristorante veicolo abbiamo le impostazioni il veicolo per gli interni quindi impostazioni dell'head up display attivo ovviamente la realtà aumentata attivata in base anche agli adas la posizione dell'head up display quindi la sua rotazione la sua altezza la luminosità dello stesso da 0 a 50 per cento e anche lo schema dei colori che può essere standard oppure con neve quindi praticamente per aumentare nel contrasto non diventa non è più bianco ma diventa azzurro perché bianco su bianco è praticamente illegibile su un'auto come questa che magari perché no potrebbe affrontare un percorso innevato quadro strumenti la visualizzazione con il reset dei dati di marcia per resettare il contachilometri parziale per i dati di marcia del lungo periodo o anche dalla partenza infine le luci interne possiamo avere l'illuminazione degli strumenti degli interruttori e anche come vedete dello schermo che attualmente per ragioni di video è al massimo esterno invece c'è accesso a quattro finestre impostazioni relative agli specchietti quindi una regolazione sincronica l'abbassamento in retromarcia l'accostamento al bloccaggio delle porte quindi si andranno a chiudere in automatico i tergi cristalli con la pulitura automatica in caso di pioggia il tergi lunotto automatico il tergi cristallo in posizione di manutenzione quindi per smontare le spazzole luci comfort l'animazione delle luci attiva o spenta il coming home con il suo con la sua funzione temporizzata il living home stessa cosa accendere in caso di avvicinamento alla vettura e anche il gruppo ottico posteriore con una con un movimento fly in pulse o rising torniamo indietro luci di marcia abbiamo il dynamic light assist i fare direzionali adattivi tutto ciò attivabile la sensibilità dei sensori fanali alta media o bassa gli anabaglianti automatici in caso di pioggia attivati o meno le frecce comfort anche e anche la modalità di viaggio per una circolazione a destra o a sinistra in base appunto al paese in cui ci troviamo a guidare pneumatici abbiamo il settaggio della pressione standard l'avvertimento della velocità eccessiva per i pneumatici invernali e anche un'avvertenza stessa abbiamo inoltre freni ci dà accesso alla protezione dagli spostamenti involontari in folle quindi chiedi sempre quando inserito neutral disattiva ora l'avvertimento all'attivazione dell'auto hold molto utile e anche easy open per aprire in maniera hands free praticamente il bagagliaio inoltre finestrini ci dà accesso alle impostazioni degli asa cristalli elettrici con l'apertura comfort con la chiave per tutti i finestrini il keyless che viene chiamato cash nel gruppo Volkswagen attivo o disattivato lo sbloccaggio porta quando ci si avvicina al veicolo la chiusura centralizzata che apre o chiude solo una porta oppure tutte o solo il lato veicolo e anche l'easy open quello del baule chiusura centralizzata sbloccaggio porte quando ci si avvicina al veicolo la chiusura attiva inoltre anche qui possiamo scegliere cosa aprire e come con la chiusura del telecomando infine ultima pagina tergicristalli accostamento al bloccaggio delle porte quindi abbassarli anzi no scusate mi costerà per gli specchietti e ciò che abbiamo visto praticamente prima e anche la posizione di manutenzione i tergicristalli si sono alzati automaticamente inoltre abbiamo lo stato del veicolo che ci mostra il service è tutto a posto praticamente per ora possiamo mettere il tergicristalli in posizione di manutenzione l'ispezione tra quanti giorni e anche il numero di telaio la pressione degli pneumatici attualmente possiamo settarla per controllarla e anche i chilometri per il chilometraggio totale o la percorrenza i dati infine della ricarica anzi del trip quindi con i consumi il trip dalla partenza i dati di lungo periodo o anche dall'ultima ricarica torniamo a menu clima a veicolo fermo possiamo attivare una climatizzazione come quella attuale a veicolo spento quindi con una temperatura attivata o anche prima della partenza quindi andare a programmare la climatizzazione e anche la climatizzazione a veicolo fermo con le funzioni comfort quindi come ad esempio lo sbrinamento automatico del parabrezza vediamo cosa vuol dire il sedile sia già riscaldato quando quando parti appunto vuoi che il sedile sia già riscaldato selezioni i sedili che desideri climatizzare possiamo andarci a cliccare su solo quelle anteriori praticamente molto utile ed interessante e anche qui anzi no qui non possiamo selezionarlo però appunto era quello e infine i setup possiamo andare a climatizzare il veicolo fermo con le porte del veicolo anche sbloccate torniamo al menu suono le impostazioni del suono alti medio bassi l'equalizzazione anzi il recentramento abbiamo anche il balance e il fader all'interno dell'abitacolo con questo lo centriamo e il sound focus che quindi può andare un po' a selezionare solamente il sedile al guidatore o singoli sedili per andare un po' a selezionare tutti i sedili per appunto dargli dare a tutti quegli occupanti che sono seduti in quel punto il massimo volume o comunque il massimo godimento dell'impianto audio infine volume c'è il volume dei comunicati radio del comando vocale dell'adattamento del volume in base alla velocità il volume massimo all'accensione l'abbassamento del volume infotainment durante il parcheggio il suono di spegnimento le istruzioni del navigatore le abbiamo già viste anche l'audio del bluetooth setup possiamo attivare il pulsante del touch la pressione del touch perché questo schermo vi ricordo non ha un feedback apti che quindi potrebbe essere utile per sapere se abbiamo effettivamente cliccato su qualcosa possiamo attivare il suono per altri comandi il suono corrispondente al gesto con la mano e anche il suono di spegnimento torniamo su menu la seconda pagina ci dà accesso al setup dell'infotainment stesso per attivare la modalità privata impostazioni dello schermo con gli sfondi che possono essere sfaccettature dinamica flusso lineare digitale oltre che fiore acqua foglia alluminio spazzolato o nero io francamente lo terrei su sfaccettature con questa bella colorazione verde scoda torniamo indietro luminosità dello schermo molto alta alta media bassa o molto bassa suoni touchscreen del sistema infotainment e i suoni degli altri comandi li abbiamo visti mostra l'orologio quando l'infotainment è spento sensore di prossimità vedete quando mi avvicino il gesto con le mani indicazione gesto della mano attivato o meno e il suono corrispondente anche al gesto della mano torniamo indietro ora è data abbiamo la sorgente orari in automatico oppure in manuale con il settaggio dell'ora del fuso orario del formato dell'ora della data del formato della data anche all'avvertenza al cambio di fuso orario lingua la lingua praticamente da scegliere per l'infotainment l'unità di misura distanza in chilometri e miglia velocità in chilometri orari in miglia orari temperature in gradi celsius o fahrenheit il volume in litri galloni per stati uniti o anche regno unito pressione pneumatici in bar chilopascal e psi e anche il consumo di corrente in kilowatt ora su 100 chilometri chilometri per kilowatt ora oppure miglia per kilowatt ora lasciamolo standard comando vocale abbiamo le impostazioni del suono per i comandi vocali avvio fine immissione fine del dialogo e anche la parola di attivazione attiva impostazioni del wifi quindi usare l'infotainment come hotspot ci dà i dati di questa vettura per attivarlo anche connessione rapida con l'infotainment e anche il wifi che può essere anche cercato dalla vettura per connettersi a se stessa l'accesso ai dispositivi mobili lo vedremo nel prossimo video connetti a scoda connect per i servizi facciamo annullo in questo caso non lo vogliamo fare resetta le impostazioni standard le informazioni di sistema il copyright e anche l'assistente di configurazione infine le note legali di questo sistema che adesso sta caricando ma che in realtà sono molto poco interessanti una tecnologia di bordo veramente molto completa e ricca fatemi sapere qui sotto nei commenti i vostri pensieri lasciateci un bel like se questo video vi è piaciuto cos'altro chiedervi se non di iscrivervi al nostro canale cliccare sul campanello per ricevere le notifiche e seguirci sul nostro sito ma anche su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente su cui siamo presenti siamo letteralmente ovunque vi basta cercare we drive.tv grazie a tutti Grazie.